Dal pensiero di San Pio del 26 di ottobre, mese del Santo Rosario L'umiltà e la carità sono le corde maestre, tutte le altre dipendono da essa. Bisogna solamente mantenere bene queste due, l'una è più bassa, l'altra è più alta. La conservazione di tutto l'edificio dipende dalle fondamenta e dal tetto. Se si tiene il cuore indirizzato all'esercizio di queste virtù, non si contrano poi difficoltà nelle altre. Questo pensiero è stato tratto dal libro Padre Pio, un pensiero per ogni giorno dell'anno, edito da Shalom. Grazie a tutti.